Promuovere la pace, la giustizia, le istituzioni e la cooperazione tra i Paesi, questi sono gli obiettivi fondamentali di sviluppo sostenibile. Lo sapevi che nella Costituzione italiana di recente sono stati introdotti i principi fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela delle future generazioni? Dobbiamo invece fare ancora molto, per esempio per aumentare gli aiuti pubblici verso i Paesi in merito di sviluppo. E allora? Bisogna agire subito, insieme, come una vera squadra. Cosa aspetti? Mettilo in agenda! Stiamo agendo!